Nikola Tesla Switch è il piano aspirante di edica in cui è sufficiente ruotare il flap centrale per attivare o interrompere l'aspirazione. La superficie lineare garantisce libertà di movimento e la facilità di pulizia tipica dei tradizionali piani a induzione. Nikola Tesla Switch è disponibile in vetro nero con dettagli in ghisa o in vetro bianco con l'acciaio lucido. Installabile a isola o a parete anche in basi profonde 60 centimetri con cassettoni di 45 centimetri. Per il passaggio dei tubi nella versione filtrante è sufficiente uno zoccolo alto 6 centimetri. La velocità di captazione dei fumi è di 5 metri al secondo, ben maggiore della loro velocità di risalita. Elevata efficacia e massimo silenzio con solid 60 dBA in classe A+. Il touch control è intuitivo e grazie alla funzione Airmatic, corredata da sensori che distinguono la qualità dei fumi e i tipi di cottura, il prodotto seleziona autonomamente la potenza di aspirazione e la regola fino a spegnimento. Nikola Tesla Switch dispone di quattro zone con induttori di ultima generazione collegabili in modalità bridge, consentendo una cottura combinata in caso di utilizzo di pentole di grandi dimensioni. L'accesso ai filtri ceramici avviene dalla parte superiore del piano. Questi filtri raggiungono soglie di filtraggio dell'80% e sono rigenerabili fino a 5 anni. La valvola interna permette lo scarico di liquidi caduti accidentalmente nel vano centrale. Nikola Tesla Switch, lo accendi e lo spegni in uno switch.